Nella nostra rubrica dedicata all'editoria protagonista un saggio sulle prospettive geopolitiche del Mediterraneo. Carlo De Cesare. Il bacino del Mediterraneo rappresenta una grande realtà storica e culturale dalle potenzialità non sempre valorizzate. Renato D'Amico e Andrea Piraino hanno raccolto nel volume per la macro-regione del Mediterraneo occidentale gli atti del convegno in tema svoltosi a Palermo nel luglio del 2017. Per gli autori la creazione di una macro-regione contribuirebbe ad assicurare in prospettiva una presenza dell'Europa in un'area dove, allo Stato, l'Europa stessa non riesce ad esprimere una posizione unitaria e dove gli effetti della globalizzazione di fatto mortificano i diritti dei più deboli. La macro-regione consentirebbe all'Unione Europea di essere più vicina alle comunità della sponda sud dal cui sviluppo dipende la pace e il benessere dell'Europa intera.